La cooperativa Mimosa compie a luglio 35 anni di attività sul territorio alto gardesano e provinciale. La sua attività si concentra in svariati settori, anche se storicamente si occupava solamente di pulizie civili. Nel 1980 la cooperativa è nata grazie a 12 donne ex dipendenti di Appia, azienda tessile storica di Arco, che chiuse improvvisamente i battenti, lasciando senza lavoro più di 100 lavoratrici. Attualmente Mimosa conta 50 soci e 250 dipendenti a tempo indeterminato nei vari settori, con picchi di 350 raggiunti con le stagionalità. Per il 35esimo anniversario, tra le altre cose, è in programma un incontro con i soci fondatori. Per quel che riguarda il bilancio 2014, il fatturato si aggira intorno ai 7 milioni e mezzo di euro, in aumento rispetto al 2013. Vediamo l'intervista al presidente Enzo Ferrari. Presidente, quando è nata la cooperativa Mimosa e perché? La cooperativa Mimosa nasce esattamente il 29 luglio del 1980, quindi il 2015 rimane per noi una data significativa in quanto compiamo 35 anni dalla nascita. Nasce per iniziativa di un gruppo di donne, di 12 donne, che decidono di unirsi e proporsi nel mondo del lavoro, affacciandosi soprattutto ai servizi di pulizia. Questo assetto rimane per una decina di anni, fino a quando all'inizio degli anni 90 un nuovo gruppo dirigente si inserisce all'interno dell'organizzazione, ampliando assolutamente su una cooperativa con una modalità che possiamo definire di multiservizi, allargando proprio la gamma dei propri servizi. Oggi Mimosa gestisce 5 aree principali di attività, una è la storica delle pulizie, l'altra è il sociosanitario, l'altra è i servizi, l'altra ancora le fiere. Quindi l'assetto è cambiato profondamente, ma questo appuntamento del 2015 non ci fa dimenticare come è nata la cooperativa. Per il 35esimo anniversario avete degli appuntamenti particolari? Allora, per il 35esimo abbiamo innanzitutto fatto dei ragionamenti col gruppo dirigente, cercando di dare anche importanza e significato a questo anniversario, partendo addirittura dal rifacimento del sito internet, quindi usciremo a breve con un nuovo sito internet, con una nuova grafica, molto più dinamico, molto più da presentazione della cooperativa con tutte le sue attività. Abbiamo deciso di uscire con delle newsletter periodiche per tenere i contatti con l'informazione con i nostri soci, con i nostri dipendenti, clienti, fornitori. Abbiamo ripreso a realizzare, perché ha abbandonato ormai da 4-5 anni il bilancio sociale, per dare anche una valenza così diversa da quello che è il rendiconto economico-finanziario del bilancio classico, del bilancio d'esercizio, per far sì che il territorio, quindi tutti gli stakeholder interni e esterni, i clienti, i fornitori, i dipendenti, i soci, possano avere un quadro esatto di come si muove la cooperativa. Altre iniziative che abbiamo in cantiere non ancora programmate sono un incontro vero e proprio con i soci fondatori per fare così una specie di festa e abbiamo in cantiere pure l'ideazione di una tavola rotonda gestita con 4-5 interlocutori di rilievo e un moderatore magari per trattare i temi legati al mondo della cooperazione, l'eventuale futuro della cooperazione in Trentino e tutte le problematiche che oggi si affacciano sul mondo economico attuale. Quante persone sono coinvolte in questa cooperativa? Se pensiamo dalla nascita che questo gruppo di 12 donne erano poi soci e lavoratrici quindi l'organico era veramente basso, oggi possiamo vantare una struttura che occupa mediamente 250 persone a tempo indeterminato nelle varie attività che ho appena descritto ma con degli picchi che arrivano anche per motivi legati alla stagionalità delle attività anche a 300-350, quindi una realtà importante credo nell'economia del territorio.